Musica Musica Come le mani? La mani è che anche a più uomini Se smetti di palla la palla dell'arco L'arco arriva a vento nesi Se sei arrivato a vedi Vedi a zero Se ti smetti di palla la palla dell'arco Vici pure la palla No a che tempo Domattina c'è ogni giorno La prima, la prima, la terza E finisce lì Non c'è capito? sei prime, sei secondi e sei terzi ora stasera arrivano sei prime questa è quella della tua macchina grazie 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 rispondi quasi quasi grazie 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 wow grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.